Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non Mi Rassegno. Allora, nella puntata di oggi parliamo di temi economici principalmente, anche di altri. Non chiudete subito il video se non vi interessa l'economia. Partiamo parlando delle misure economiche per fronteggiare la crisi e andando un po' a scavare per vedere esattamente cosa c'è dietro e cosa queste cose significano. Parliamo di un articolo sul Guardian che fa un parallelismo interessante fra crisi climatica e pandemia per vedere se possiamo imparare qualcosa da questa situazione. E poi parliamo di Stefano Mancuso che compare sempre sul Guardian che è un biologo e ricercatore sull'intelligenza delle piante. Probabilmente, non so, forse lo conosce. Fatto sta, va bene, partiamo con i consueti aggiornamenti. Avrete sentito ieri la notizia... Ci sono due notizie con cui quasi tutti i giornali aprono le proprie prime pagine. Una è quella di Boris Johnson, premier inglese, che è in terapia intensiva. L'altra notizia, invece, riguarda le nuove disposizioni del governo, un nuovo decreto che ieri sera, con il consueto, ormai appuntamento con Giuseppe Conte, è stato annunciato e che prevede 400 miliardi di euro di liquidità, quindi circa oltre un quinto del PIL italiano, come garanzia sui prestiti alle imprese, in modo che le imprese possano ricevere i prestiti immediati in cui lo Stato si fa da garante. Questi soldi, sommati dagli altri 350 miliardi di euro del decreto Cura Italia, fanno 750, quindi sono un bel po' di soldi. Ora, se ho ben interpretato, non tutti questi soldi vanno a confluire direttamente nel debito pubblico italiano perché sono delle garanzie, in questo caso. Sono garanzie che lo Stato fornisce dietro alle imprese, ma se le imprese poi saranno in grado di ripagare i propri debiti, lo Stato non dovrà intervenire, quindi quei soldi non finiranno nel debito pubblico. Però, in ogni caso, una parte sì. E la sensazione è che, tra l'altro, dovranno arrivare altri aiuti, perché la situazione economica in questo momento è praticamente quasi completamente ferma, a parte alcuni comparti essenziali, e quindi probabilmente serviranno altri aiuti o aiuti diretti alle persone, insomma, dipenderà da scelte politiche, però probabilmente non è finita qua. E quindi il problema del debito rimane, soprattutto per paesi come il nostro, che partivano già da una situazione precedente debitoria, che era molto alta il debito italiano, era superiore al 130% del PIL, le regole europee prevederebbero attorno al 60% come limite massimo, e quindi capite che già non ci stavamo lento prima, figuriamoci dopo. E la domanda quindi è, cosa succede dopo? Perché una volta usciti da questa situazione d'emergenza, cosa faremo con i debiti pubblici italiani, ma in realtà tantissimi debiti pubblici di tanti altri stati che si saranno gonfiati all'inverosimile, ed è una domanda da un milione di dollari, perché tendenzialmente, cioè un po' più di un milione di dollari, visti la dimensione dei debiti, perché tendenzialmente ci sono due direzioni, forse tre, forse mille probabilmente, però diciamo due tendenze distinte, una è quella a riprendere la politica di tagli alla spesa pubblica, tagli al welfare state, vendita di patrimonio pubblico, aziende immobili beni, che è appunto la politica un po' cosiddetta di austerità, che era la linea che soprattutto alcuni paesi, Germania, paesi nordici, avevano portato dentro l'Europa come condizio sine qua non per farne parte, e che è stata adottata fin qui. Il punto è, ha senso in questa situazione, perché è la stessa politica che è stata applicata per anni, ad esempio, alla sanità, e adesso ne stiamo vedendo anche tutti i risultati. L'altra direzione, che in realtà non è per forza in contraddizione con la prima, ma è solo per farvi capire quali possono essere le opzioni, è un taglio del debito pubblico, quindi una ristrutturazione del debito in cui una parte consistente del debito non viene restituito, si patteggia, diciamo, fra creditori e debitori. Spesso in realtà queste due opzioni sono andate anche di pari passo nella storia, pensiamo al caso della Grecia. Però, ecco, quest'ultima opzione può essere declinata in maniera ancora più forte con una sorta di giubileo del debito, che è qualcosa di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, che sono misure che in genere si applicavano dopo delle guerre, soprattutto verso i paesi più colpiti, per permettere a un'economia di ripartire dopo un evento catastrofico che l'aveva quasi rasa al solo, quindi togliere questo fardello del debito sicuramente aiuta l'economia a ripartire. Quello che secondo me sarà indispensabile, al di là di quale scelta nella pratica si farà e di come si faranno queste scelte, che poi è quello che farà la differenza, è mettere un po' in dubbio questo dogma del debito, che poi alla fine, in fin dei conti, se lo si va ad osservare da vicino, non è nient'altro che un accordo, una relazione fra persone, fra entità, ma non esiste nel mondo fisico. Quindi, probabilmente dovremmo iniziare a ragionare anche su che cos'è il debito e mettere in discussione tutto questo impianto, tutta questa costruzione un po' immaginaria che abbiamo creato per aiutarci a risolvere i problemi reali. Ad ogni modo, ecco, visto che la situazione sembra, per restare invece nell'attuale, visto che, insomma, considerata la situazione, sembra che l'Europa si stia orientando verso politiche di credito condiviso, che è già un piccolo passetto in avanti. Che vuol dire? Vuol dire che, oltre alle misure prese dai singoli stati, tipo quella di cui abbiamo già appena parlato, si inizia a parlare in maniera un po' più convinta del tema dei Corona Bond, o Euro Bond, o come li si voglia chiamare. E la sensazione, appunto, è che piano piano anche i paesi più scettici, in particolar modo i paesi del Nord Europa e la Germania, si stiano convincendo che sia una misura, in qualche modo, necessaria, forse persino inevitabile. C'è un'intervista molto interessante di valori a Clemens Fuest, che probabilmente non si pronuncia così, però io penso, dopo che ho pronunciato l'imes, limes, ho dato il peggio di me, quindi Fuest me lo potete anche passare, che è uno dei principali economisti tedeschi, presidente di un think tank liberista, quindi non proprio un personaggio non allineato o l'ultimo arrivato, che sostiene che sia arrivato il momento per l'Europa, se vuole sopravvivere alla crisi, di iniziare politiche di indebitamento comune. Quindi l'idea dei Corona Bond è quella che ci sia direttamente, che sia direttamente l'Europa, almeno in parte, a indebitarsi per finanziare la ripresa dalla crisi economica. E quindi non i singoli stati membri, non sono i singoli stati membri che vanno ad aumentare il proprio debito pubblico per finanziare appunto imprese, famiglie, eccetera, eccetera, ma è direttamente l'Unione Europea attraverso la Banca Centrale Europea. E credo che prima o poi lo faranno, perché l'esplosione dei debiti sovrani degli stati potrebbe far più male all'Unione Europea della pandemia stessa. Certo, di nuovo, stiamo parlando fino a qui di misure esclusivamente quantitative, misure puramente economiche. E c'è un pezzo enorme di ragionamento che mi sembra che manchi nel dibattito pubblico, almeno a livello mainstream, ovvero su quale economia vogliamo far ripartire. Ne abbiamo già parlato qualche volta, ma ribadirlo non fa mai male. Per cui vogliamo riprendere a inquinare, bruciare, mettere CO2, distruggere gli ecosistemi come facevamo prima o peggio di come facevamo prima, oppure vogliamo sfruttare questa occasione per investire in una riconversione verde. e di nuovo ho l'impressione che continuiamo un po' ad affrontare i problemi un pezzetto per volta e non guardiamo mai l'intero disegno. Quindi adesso affrontiamo la crisi sanitaria ed economica, poi quando saremo tornati al punto di partenza torneremo a interrogarci sui problemi dell'ambiente, forse ci sarà ancora tempo. Sarebbe bello, ragionamente abbastanza idiota, però sarebbe bello se il mondo funzionasse come i nostri cervelli e mettesse i problemi in fila uno dopo l'altro e ci permettesse di affrontarli in questa maniera qui. Però, visto che non è così e che tendenzialmente i problemi vengono, arrivano tutti insieme perché sono tutti profondamente connessi, forse sarebbe l'ora di allineare invece i nostri cervelli a come funziona il mondo e quindi iniziare a pensare in maniera sistemica perché se no ho l'impressione che difficilmente ne riusciamo ad uscire da questa situazione a livello globale in generale. A proposito di parallelismi ma non è già tardissimo, 9 minuti e 12. A proposito di parallelismi e connessioni fra crisi ambientali ed emergenza coronavirus, c'è un articolo del Guardian che fa delle considerazioni interessanti su cosa potrebbe insegnarci questa crisi se, aggiungo io, se fossimo veramente sapiens. Abbiamo visto, ovvero, cos'è che ci potrebbe insegnare? Quanto pesano i ritardi su variabili che crescono in maniera esponenziale. Mi spiego, abbiamo visto i governi mettersi in moto per contenere il contagio quando ormai la crescita esponenziale dei contagiati era ben avviata e visibile, quindi quando ormai era troppo tardi. Anche pochi giorni di anticipo di ritardo fanno una differenza enormi in condizioni come queste e con variabili come queste che appunto crescono non in maniera lineare ma in maniera esponenziale. Ecco, anche quello per quanto riguarda la crisi climatica possiamo fare esattamente lo stesso ragionamento, ovvero quando gli effetti si fanno pesanti e visibili tendenzialmente è già troppo tardi per intervenire. Solo che abbiamo un po' questo tarlo mentale per cui finché non ci troviamo nei casini fino al collo preferiamo non intervenire perché magari non abbiamo il consenso politico per farlo perché non ci rendiamo conto della situazione non crediamo fino in fondo una cosa finché non la vediamo succedere mille motivi. Però ecco qui abbiamo la prova provata di come funziona come funzionano le variabili esponenziali e quindi vediamo se riusciamo a trarre qualcosa di positivo qualche insegnamento da questa situazione e ad applicarla su un'altra variabile esponenziale. speriamo non ci conto troppo però magari sì. In conclusione brevissimamente segnalo un altro lungo articolo sempre sul Guardian dedicato alle ricerche di Stefano Mancuso sull'intelligenza delle piante ed è un campo che fino a pochi anni fa era considerato poco serio e ortodosso da parte della maggior parte degli scienziati e che adesso invece ha trovato sempre più credito a livello di tutta la comunità scientifica internazionale. Questa parabola ci mostra due cose a mio avviso uno che la scienza è fallibile e quindi non ha tutte le risposte che stiamo cercando 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 ce ne ha piuttosto poche ancora probabilmente su tanti temi molto complessi ma che è permeabile e tendenzialmente riconosce i propri fallimenti a patto che le nuove teorie siano solide e siano ben dimostrate. Insomma non possiamo considerare la scienza una fede però possiamo ancora curargli la nostra fiducia. Questo non lo so è quello almeno che mi è venuto da pensare leggendo questo articolo e leggendo appunto come siano stati rivalutati gli studi di Stefano Mancuso e in generale di questo argomento così affascinante che è l'intelligenza delle piante. Va bene sono in ritardissimo io la chiudo qua vi saluto vi do appuntamento domani con una nuova puntata io mi rassegno sempre le 10 sempre le 10 minuti e vi ricordo come ogni giorno che chi si rassegna è perduto. Ciao